io direi di andare con due mani guarda, allora la mano che ora iniziamo a seccare puoi tenere la testa? dai, fammi vedere come sei bravo ad andare oh, è caduto su, vai la vuoi te? la mettiamo qui? la mettiamo qui? come è bravo questo bimbo a dire no, ha imparato proprio bene mettiamo qui? aspetta, vediamo se riusciamo a farla stare è un po' rotonda questa castagna non ha la base, amore, è proprio una palla questa castagna tonfa, sì? no va bene dagli allo zio, dai grazie no, non riesci a farla stare via no, non sta su dai, su, vieni fai vedere allo zio come vai giù bene dai, fammi vedere come sei bravo ad andare dai, dai, su, guarda che fa passa sotto il ponte dallo zio zio, allarga le gambe forza forza come va piano questo bimbo non è capace di andare veloce ma sei capace di passare sotto? oh, meno male non ho male eh sto un po' ritardato no, no, no dai, vai a vedere laggiù dove vuoi andare? cosa vuoi fare? là? a fare a fare cosa? cos'è che devi fare là? cosa devi fare là? non ho qualcosa cosa c'è? cosa vuoi fare? cosa vuoi fare amore? oh, da dove è arrivata quella castaglia? è caduta dal cielo fa male la zucchetta e quando la picchi c'hai paura a saltar su eh? fa male la zucca l'hai picchiata forte? eh? che vuoi dire? mamma mamma cosa? gliel'hai detto alla mamma gliel'hai raccontato che hai picchiato la testa e certo e che gliel'hai raccontato la sua mamma cos'è che ha detto la tua mamma? perché ce la camicia ma la pucca si, si pom pom spiegagli dove fa vedere dov'è che hai picchiato la testa dove è che sei caduto? fa vedere portami a vedere dai va a vedere allo zio dove? che lui non lo sa eh dove? 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 fa vedere qua qua fa vedere allo zio dove qua qua è caduto guarda dove? lui è andato dentro qua è impennato vero? ha impennato lui gli ha dato le botte botte a queste piastrelle vero? ha impennato? eh sì eh perché ha impennato? eh perché è un brigante questo qua impenna e poi cade eh visto che omino che ci abbiamo qua e quindi non vai più sul triciclo adesso tanto che va ancora figurati no come bravo a dire no 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 dio allarga le gambe che vengo io braaa che te? no son buono non metti male se perdiamo un gioco così eh mi fa che lui adesse non prende la terra cosa c'è amore? ti vedo pensieroso cosa succede? Cos'è che prende? Cos'è che prende lì adesso? Oh, questo sciamolino! Aspetta che lo spostiamo un po', se lo vai contro... Ma da solo? Vieni, dai! Ah, fai vedere allo zio vicino che abbiamo trovato ieri! Voglio vedere com'è bello piccolino! Che bello! Guarda! Fammi vedere! Guarda come la Giorgia, eh! Quella è l'erbetta piccolino! Lo fai vedere allo zio? Il riccio piccolo piccolo ha trovato! Che bello che... Ma non funge! Lui l'ha trovato! No, questo no, non funge zio, anche lui la tocca, eh! Quello non funge, né? Oh, oh, oh! Ah, non è vero! Non funge zio! Ehi! Ma poi, guarda cosa gli ha fatto la nonna per farlo imparare ad andare in tricicolo, mamma! Mette i piedini e la nonna lo fa andare! Proviamo, come ieri? No! Dai, fammi vedere come vai sullo scivolo! Sei capace ancora? E? Vai sullo scivolo! Oh, 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 oh! Vieni sullo scivolo! Vieni sullo scivolo! Cosa fai? Hai piantato l'oriccio? Eh? Hai piantato l'oriccio? E che riesce a pianta, secondo te? Sì! Grazie! Porco, sì! Terra! Terra! Sì! Oh, vieni! No, fammi vedere sullo scivolo come vai! Su! Cosa fai adesso? No, lo sai che non devi toccare la terra qui! Andiamo là, perché sennò qui ho paura per questi sassi, Luca! Andiamo giù là, se vuoi giocare a terra! Lui al suo posto, che è più largo! Sennò, ora che si faccia male! Vedi la carione e poi ho giocato due a tre! Cosa è la carione? Sei capace? Mi stanno mettendo qua! Alza la carione e ti offro! Oh! Vieni! Che omino! Bravissimo! Bravissimo! Grazie a tutti! Non è capace! Non è capace! È un organo! Dai, dai, la terra! che bravo eccolo qui adesso lui mette tutte le sue cose a posto scava riempie questo quanto ce l'è morbida guarda che palettate riempie una carriola intera oh che fatica madonna mia che fatica come mi chiamo io me lo dici zio non me lo dici proprio zio marco zio marco cosa fa? non gliela smuove come si chiama lui? che imbranato come si chiama lui? zio? zio? ma? ma? zio ma? bravo guarda quanta morbida quanta terra che ha Luca da caricare caricala tutta poi la svoltiamo bene oh che paletta piena oh oh dio mio questo? cosa fa la nuova? non la smuove vero? e Luca la prende dai oh bravo bravo cosa fa adesso? oh tutto addosso ai miei fiori che forzuto bravo come si fa? devi prenderla ah ma così che stile no no esatto è caduta tirala su dai cosa è successo? oh mamma mia oh dio mio girala sei capace? ah che cosa devo fare la scuola Luca fai ciao fai ciao ciao ciao